Hanno fatto un sondaggio su 100 ragazze di Monza dai 20 ai 30 anni e gli hanno chiesto ma fareste l'amore con Berlusconi? Il 33% ha risposto magari, il 67% ancora. Va bene così facciamo un sorriso prima di iniziare con le cose serie. Allora passo il microfono al mio amico che è un sindaco secondo me straordinario che ha fatto moltissime cose per la sua e per la vostra città. È un sindaco che ama fortissimamente la sua città, è un sindaco che ha dato grandi risultati, che ha risolto molte situazioni difficili. Saremmo tutti dei coglioni se non gli dessimo in mano la città per altri 5 anni. Grazie, grazie Presidente.